ognuno di noi nasce e diventa cittadino abitante utente paziente ed è nella collettività che cresciamo progrediamo e ci realizziamo con percorsi di vita fatti di tappe di incontri di rischi ogni giorno abbiamo bisogno di coloro che forniscono cure assistono i più vulnerabili si occupano e si prendono cura dei luoghi in cui viviamo coloro per cui l'interesse generale è una sfida quotidiana coloro che agiscono per il bene di tutti in reliance camminiamo al loro fianco al tuo fianco voi che ogni giorno vi impegnate in europa al centro dei territori e delle collettività nell'universo della sanità e del sociale la nostra missione proteggervi dai rischi ai quali siete esposti siano essi connessi alle risorse umane alle cure alle tecnologie gestirli con voi in ogni momento per evitare che si verifichi un incidente in reliance non ci limitiamo ad assicurarvi facciamo molto di più interveniamo per proteggervi al meglio individuiamo analizziamo preveniamo i vostri rischi e se l'incidente si verifica siamo al vostro fianco per farci carico delle conseguenze insieme ai vostri partner con l'ausilio di dati intelligenza artificiale e tecnologia mettiamo in sicurezza la vostra vita quotidiana la vostra professione e proteggiamo le donne e gli uomini che si impegnano innoviamo e ci impegniamo per costruire un futuro migliore mettendo la lealtà e la correttezza al centro delle nostre relazioni perché siamo convinti che dalla fiducia nasce il legame oggi e da quasi 100 anni con voi creiamo saldi legami per avanzare insieme in un mondo in cui la fiducia si nutre si condivide e si trasmette e se continuassimo ancora a lungo insieme a contare reciprocamente gli uni sugli altri a credere in noi in voi ad agire innovare al fianco di chi opera nell'interesse generale per costruire un mondo di fiducia ad anticipare oggi per proteggere domani